C'è da decidere se mangiare dentro fuori Oh zitto cazzo Mi piace Sì eh Ma guarda un po' che aspettavo Guarda io non lo ho visto mai C'è lo ho visto sui due giornali Guarda 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 Questa è che era Mati? Aspetta eh Ammazza che luce io stai a prigione e fagli un video con la torcia Di giorno però non mi veniva scuro Aiuta a fare un video? Sì Oddio c'ha paura guarda quella lì Mi sa che la faccia una volta con le ombre Ma io sono i figli suoi Ma lei c'è l'arte perché? Lei perché c'è la gravidanza isterica La ragazza la compia Attento lo schiaccia lo schiaccia Amore le fai male così Ma questo che c'ha perché mi ha Mi ha dato Mi ha dato Mi ha dato Mi ha dato